Vi ricordate di Andrea Dal Corso e Teresa Langella? I due ragazzi si conobbero a uomini e donne, e la loro storia non ebbe un inizio particolarmente entusiasmante. Il corteggiatore, infatti, rispose di no al momento della scelta della tronista. Dopo un po' di tempo, però, i due si riavvicinarono, e adesso vivono una splendida storia d'amore. In queste ore, sul profilo Instagram della ragazza, sono Tess. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.